Tutti in un contesto vogliono fare l'artista, vogliono fare la musica, però non c'è nessuno che è appassionato e che si vuole dedicare ad altri aspetti. Quindi alla fine forse siamo l'unico paese nel mondo dove a parte pochissimi casi rari, dove per esempio possiamo citare Macete, forse uno dei casi più esaustivi di family and business tutto assieme, alla fine dobbiamo sempre ricorrere alle strutture esterne. Eccoci al primo episodio della seconda stagione di Darsi da fare, dove troviamo caso che dialoga con Bassi Maestro durante l'incontro alla biblioteca civica di Varese. È una conversazione molto interessante in cui Bassi racconta il suo passato e spiega il perché ha deciso di smettere con il rap. Ti volevo segnalare anche il progetto rapbeatsradio.com e ti invito a iscriverti al canale, mettere un like e se hai voglia scrivere un commento. Io ti metto questo pezzo, vediamo. Tu l'hai riconosci? Un pezzo nuovo questo. Allora, questo pezzo mi serve per catapultarvi un po' nei primi anni 90. Allora, è stato proprio la mia prima ufficializzazione di quello che era stato già un lavoro per me di passione, durato più di dieci anni, perché ho iniziato, come più volte ho ricordato, a mettere i dischi molto giovane, ovviamente prima di approcciare l'hip hop. Cioè ho iniziato come DJ, che avevo 11 anni, quindi si parla dell'84, quando ho iniziato proprio a mixare, ovviamente mixavo in casa, poi ho iniziato a mixare le feste di amici. Quando mi sono appassionato all'hip hop, più o meno è stato quando è arrivata un po' questa ondata di cultura alternativa dall'altra parte dell'oceano. Quindi è arrivata un po' per rimbalzo di quello che succedeva in Europa, un po' perché alcuni media, come le radio, come i giornali, iniziavano a parlarne e cominciavano ad esserci i primi concerti in Italia. Ricordo un concerto del 1987, dei Run DMC, che era uno dei gruppi popolari a quel tempo, Public Enemy, che probabilmente avete sicuramente sentito nominare. Quindi ecco, sono stati i nostri primi approcci a questa musica, io mi sono appassionato al 100% a questa cultura e ho iniziato a fare per conto mio i compitini a casa. Ho iniziato a fare le prime produzioni con quello che avevo, ovviamente prima con i giradischi, con le cassette, con gli strumenti di fortuna che potevo procurarmi. Il microfono, quello che ovviamente sai, quello del GBC, il negozio storico di Milano, radio microfoni da 5.000 lire. E niente, poi diciamo che la passione è andata avanti parallelamente alla vita di un ragazzo normale che ha delle amicizie, che inizia ad andare all'università, poi mi spostai e andai a Bologna a studiare per qualche anno, che tra l'altro era un bel centro forte per l'hip hop, perché c'erano tutti i sangue misto, DJ Graff, c'era il Century Vox che era l'etichetta storica di Bologna che poi ha fatto uscire una serie di dischi, tra cui anche i primi dischi degli OTR di Varese. Però diciamo che il fascino che arrivava da questa zona era che mentre da Bologna, da Roma, dai centri sociali arrivava un tipo di cultura che non mi apparteneva perché era una cultura da disadattato, da persona fuori dalla società, io ero una persona normale alla fine, andavo a scuola, studiavo, facevo cazzi miei normalmente. E diciamo che gli OTR, che erano comunque uno dei gruppi più forti, ai tempi rappresentati molto bene da ESA, che era il frontman, insomma che tuttora ovviamente è attivo, è il Prezza, anche secondo nome acquisito negli anni. Diciamo che era la realtà che sentivo più vicina a me, io poi li conoscevo perché compravo i primi dischi, i primi demo, quindi quando c'è stata la possibilità, poi eravamo in pochi, considerate che quando ci si trovava una festa arrivavamo da tutta Italia ed eravamo magari non so, ah sono arrivato da Milano, ah ci sono anche loro da Milano, piacere, cioè non è che erano tutti da Milano, erano cinque persone da Milano, tre da Roma, dieci da Torino, alla serata magari specifica. Quindi diciamo che poi nel momento che ci siamo conosciuti abbiamo cominciato a conoscerci, a lavorare assieme, c'era sicuramente un'affinità, io avevo meno esperienza di loro ma c'era sicuramente un'affinità anche con DJI, che è un altro socio storico anche di Fabio e che sicuramente molti di voi conosceranno, ci siamo trovati subito perché eravamo comunque due DJI più o meno da stesso tipo di provenienza, stesso tipo di cultura, di passione, abbiamo iniziato a mixare prima altri generi musicali, abbiamo iniziato con l'House Music alla fine degli anni Ottanta, poi siamo passati all'Hip Hop quindi c'era molta intesa. Il modello americano era sicuramente un modello di rottura, era un modello che non si conformava a quello che erano i canoni diciamo né di espressione artistica né economici della società perché l'Hip Hop underground, diciamo quello che non si era ancora lasciato inglobare dalle multinazionali era motivato, a parte da una forte spinta culturale, era anche motivato da un guadagno molto indipendente, economico. Quindi diciamo questa piccola crew, questa piccola associazione che noi chiamavamo Mixman Connection, dalla mia Mixman Production, poi evoluta in una più saggia Mixman Connection da ESA, diciamo l'idea era quella di proporre un prodotto completamente autoprodotto, autogestito, autostampato e autofinanziato ed arrivare direttamente in casa delle persone, un po' quello che adesso si fa con internet, noi lo facevamo con la posta, quindi iniziavamo a produrre delle cose che prima erano delle cassette, dei nastri mixati, dove c'erano anche dei nostri brani o dei demo delle nostre canzoni o di canzoni di altri che volevamo produrre. Lì vendevamo per posta, venivamo pagati con dei vagli apostali, io ogni settimana quando il business cominciò a girare mi ricordo che andavo in posta con questa pila di vagli e la tipa mi guardava che lavoro fai, perché da dove arrivano questi soldi, perché cominciavano a essere soldi importanti, soprattutto considerate che tutti quelli di noi che avevano lavorato avevano fatto lavoretti pagati a ora o il volantinaggio, i lavori che fai poi per mantenerti gli interessi paralleli. Io poi lavoravo già nella musica, nel senso che facendo il DJ avevo già lavorato per delle etichette discografiche con delle produzioni, avevo fatto delle produzioni house, avevo fatto delle compilation per questa etichetta che si chiama Disco Magic, che è un'etichetta storica di Milano e venivo comunque ben pagato, per cui riuscivo già a, a comprarmi le cose che mi servivano, il mixer, insomma tutte le cose che mi servivano per produrre. Quindi ecco ci siamo trovati in questa situazione con due postazioni di produzione, Varese che era un po' il centro perché gli OTR erano concentrati qui, c'era comunque Lapina che era un personaggio che gravitava attorno al gruppo degli OTR che adesso è una famosa DJ radiofonica ma ai tempi era una promettente rapper e chiaramente c'era anche un po' di spotlight sulla faccenda perché chiaramente Lapina anche poi andava magari al Costanzo Show perché era un personaggio comunque abbastanza interessante, innovativo nel panorama italiano. Quindi c'era molto fermento e abbiamo iniziato così e i primi dischi sono proprio stati fatti così. C'è il mio primo album che infatti è molto raro, lo stampammo noi con i guadagni di Mixman e cominciamo a venderlo alle serate, ai concerti e quindi diciamo che quelli erano i primi rientri, i guadagni reali che poi sono stati rinvestiti, era un po' il modello dell'underground americano, sono dei mixtape. Secondo me la parola chiave è stata questa anche della connessione, creare delle connessioni e quindi è una marcia che ti permette di creare degli scambi utili e che ti fanno crescere soprattutto in un periodo pre-internet dove c'era solo questa possibilità. Allora ascoltiamo un altro pezzo. Tanto l'introduzione è abbastanza lunga, lo conosco. Beh siamo nel 98. Questo pezzo è stato fatto nel 97, cioè scritto e registrato nel 97 ed è uscito poi un anno dopo. che è il pezzo diciamo più famoso che ho fatto, foto di gruppo ed è un pezzo che rappresenta un po' diciamo questo modo di vivere la musica che comunque ti inglobava in una realtà diversa e ti faceva un po' perdere il contatto con quello che era la tua realtà di sempre. Cioè nel momento in cui questa cosa diventava un lavoro, diventava una cosa a tempo pieno tutto il resto che io ho descritto un po' in questo disco, in questa canzone veniva un po' tralasciato. Era come rivedere la cosa tanti anni dopo. Infatti poi è stato così, tante cose le ho perse per strada. L'università, insomma determinate amicizie che mi avevano portato fino a lì. Era proprio un ambiente diverso. Cioè adesso uno può fare musica in generale da camera sua e condividela con il resto del mondo. Ai tempi non potevi, per cui per noi fare rap, fare hip hop in Italia quando in un periodo storico in cui non c'era ancora questa cosa consolidata, significava, era una specie di religione. Cioè era un impegno non solo artistico, anche morale rappresentare qualcosa che era più grande di te, era una cultura a cui dovevi moltissimo. Quindi siamo sempre stati molto considerati degli integralisti, ma per necessità espressiva. Cioè faceva parte del codice, del canone di espressione di questo mondo. Per cui, sì, ecco, già lì le cose iniziavano a cambiare. Perché considerate che quando io ho fatto questo disco nel 98, c'era incluso un brano con un campionamento di Raff, di Cosa resterà degli anni Ottanta, che a mia sorpresa finì a radio, finì a radio DJ perché qualcuno lo ascoltò, era il periodo in cui comunque la roba underground, c'era interesse, c'era curiosità. Per cui io andai in televisione a quel pezzo, comunque il disco mi diede una bella visibilità. E c'è da dire che il grande salto che fu fatto in quel periodo era lo step successivo di quello che poteva essere la cosa di Mixed Man Connection ad opera di Fisch e Tormento di Sottotono, che ovviamente avendo raggiunto una popolarità e un'indipendenza economica più forte degli altri in tempo minore, provarono a fare la stessa cosa in grande. Cioè fondarono un'etichetta che si chiamava Area Cronica nel 97, fine del 97, che aveva la stessa idea di produrre gli artisti che giravano con loro, insomma quella roba alla Puff Daddy, quella visione all'americana della crew e poi del produttore che comunque ingloba i vari progetti, cioè gli dà una direzione ai vari progetti e li distribuisce e appunto io firmai per Area Cronica per due album e lì si aprì un'altra, diciamo un 2.0 di tutta questa cosa perché ovviamente essendo affiliato con Sottotono poi mi trovai per ben due tour nel 98-99 a suonare con loro sul palco per tutto il tour ed erano dei tour estivi molto lunghi ed era un altro tipo di esposizione, cioè si iniziava a suonare davanti a 5-6 mila persone alla settimana, facevano i palazzetti e ovviamente loro dentro al loro show inglobavano anche quello che era poi la musica che producevano, quindi c'è stato un altro step ed è, considerate che sono gli anni in cui gli articoli 31 ovviamente erano già popolari, è stato il primo gruppo a raggiungere una popolarità diciamo radiofonica e soprattutto commerciale, cioè mainstream diciamo e poi considerate che era l'anno di Neffa, dei messaggeri della DOP, insomma post sangue misto, quindi c'era un sacco di interesse intorno a questa figura, un po' alternativa, l'alternativotto che però comunque piaceva ai fighetti sostanzialmente, quella era l'equazione giusta, cioè i sangue misto erano un gruppo hardcore, underground che rappresentava un disagio sociale e chiaramente come è successo in America con la musica black di rottura, poi piacevano ai figli di papà sostanzialmente. Secondo me tu hai usato questa parola, cioè questa cultura o musica di rottura e si crea così l'interesse anche all'esterno, mentre forse oggi non lo è più, quella, questo secondo me è una chiave che ha creato quell'interesse, quella curiosità. Considera che è successo praticamente solo con il rap e solo in quegli anni e con determinati personaggi, perché tanta gente che ha iniziato in quel periodo non ha avuto lo stesso tipo di aggancio. Pensate a uno come Caparezza, che comunque è in giro dal 94-95, comunque ha fatto un suo percorso parallelo, assolutamente rispettabile e soprattutto molto indipendente a livello musicale, che è sempre stata la sua forza, però non c'era quel tipo di interesse su alcuni personaggi, cioè il rap catturava l'attenzione, hanno fatto uscire le scimmie dalla gabbia, era quella roba lì, e adesso sono libere, allora andiamo a vedere le scimmie che fanno lo spettacolo. Più o meno era quel tipo di interesse, che poi c'è stato più avanti in un altro modo, ma poi magari ne parliamo, però è successo secondo me in quegli anni, è successo solo con il rap, cioè non mi viene in mente un altro genere musicale in Italia, forte e indipendente, che abbia portato agli stessi risultati. C'è sempre stato il rock in Italia, però il rock è sempre stato un rock sciacquato. Allora, tu tra il 2000 e il 2006, che è stato catalogato anche a giusto titolo come il periodo buio dell'hipop italiano, Davide ha pubblicato una sfilza di materiale, tantissimi albumi, infatti neanche lui si ricorda di che anno è questo, probabilmente, perché uno all'anno, dal 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ed è una cosa particolare, perché quando nessuno faceva più dischi... So che quello che dice Fabio è vero, dal 99 al 2000 e... 2003, 2004, c'è stata una forte pausa della musica, c'era solo poca gente che continuava a produrre, nello specifico c'eravamo noi, che poi, insomma, io di base sono sempre stato a Milano, però collaboravo con DJ Z, che era di Verona, che poi ha fondato, ha aperto un negozio che era Vibra Records, che vendeva dischi, e poi è diventato una label, è diventato un'etichetta Vibra Records, però attenzione, qua siamo ancora prima delle nuove generazioni, c'eravamo noi, c'erano gli atipici a Torino, c'erano Piotta e, diciamo, Cor Veleno, insomma, loro a Roma, che continuavano a spingere abbastanza, e poi chiaramente tutte le realtà minori, bolognesi, chiaramente in tutta Italia c'era gente che continuava a fare musica, ma a livello di produzione erano veramente poche le città che buttavano fuori musica. Noi abbiamo riattivato la scena nel, per quanto riguarda Milano, nel 2003, diciamo, l'anno più o meno in cui anche Eminem è arrivato alla ribalta con 8 Mile, adesso non mi ricordo se fosse il 2003 o 2002, forse tardi 2002, perché iniziamo a fare questa serata che si chiamava The Show Off a Milano, settimanale, che era una serata su un modello, di una serata americana dell'Illacy's Lounge, dove, diciamo, i rapper si trovavano a improvvisare, e iniziamo questa serata dove all'inizio c'erano 10 persone, poi ce n'erano 20, poi alla fine c'erano 300, perché non c'era niente, cioè c'eravamo solo noi che facevamo questa cosa per passione, e quindi chiaramente la stampa, quando si è svegliata, grazie a Eminem, è venuta a cercare noi, e da questa esperienza nasce tutto il resto a Milano, quindi i Jack the Smoker nascono da The Show Off, la persona che ha registrato nello specifico tutti i dischi di quel periodo sono io, nel senso che ero l'unico a Milano che aveva uno studio di registrazione, ovviamente uno studio più piccolo di quello che ho adesso, ma comunque abbastanza attrezzato per poter fare questa cosa, non tanto perché volevo, chiaramente considerate che non c'erano soldi, perché non c'erano dischi, non c'erano serate, quindi significava che io dovevo lavorare, avere un lavoro principale con cui poi pagarmi i soldi, cioè prendere i soldi per poi fare quest'altro lavoro che era avere lo studio, fare i dischi. Tu hai toccato secondo me tre temi importanti, uno è quello di aver pubblicato del materiale quando nessuno lo faceva, secondo me Davide, proprio in quegli anni hai costruito un po' la tua fan base che ti ha poi sostenuto negli anni a seguire. Questo lo dico anche per quelli che magari qui o sono dei musicisti o meno, ma proprio la motivazione, la passione, l'urgenza di fare le cose ha creato questa cosa di conseguenza, cioè quando nessuno produceva tu lo facevi ma proprio a manetta perché contemporaneamente c'erano i mixtape, contemporaneamente c'erano anche le organizzazioni di eventi perché lo Shof era un appuntamento. Avere un appuntamento vuol dire molto, no? Mi hai fatto ricordare ad esempio a Varese nei primissimi anni 90 a Sesto Calende c'era un appuntamento e venivano dal Piemonte, da Milano, da Varese. che il treno di mezzanotte a Varese era un appuntamento settimanale, no? Mensile? Ma inizialmente mensile però è diventato settimanale e questa cosa nelle città penso che adesso sia, non dico scomparso, ma è difficile da avere a Varese per esempio non c'è più stato. Quello di avere un appuntamento settimanale come poteva essere il treno, poteva essere lo Shof aiuta anche un ragazzo, una ragazza, insomma, chi produce della musica fa qualcosa, da avere anche un obiettivo, sapere che quello che tu fai potrai mostrarlo in quel luogo, in quel posto. Io penso che oggi con il digitale che offre tantissime opportunità però non ti dà quell'immediatezza, cioè io produco un disco, ho delle rime potenti, eccetera, magari ne metto su YouTube, ne metto sui social, ma magari finisce molte volte tutto lì. quei periodi erano straticamente in fronte. C'era sicuramente più confronto da un punto di vista diciamo di scambio reciproco, cioè in realtà il vero motivo per cui uno della nostra generazione faceva musica era perché aveva esigenza di esprimersi, questa è la vera grande differenza, cioè il motivo per cui sostanzialmente gente come noi che aveva bisogno di scrivere è andata avanti a fare dischi, cioè io sono andato avanti a fare dischi mica perché volevo far piacere alle quattro persone che mi seguivano, a me non mi è mai fregato niente di fare musica, scusate, per nessuno, per voi, per gli altri, ho sempre fatto musica solamente per me e se qualcuno mi segue e mi conosce lo sa bene perché io faccio solamente i cazzi miei quando faccio musica, raramente ho seguito degli schemi, delle regole dettate dal mercato le poche volte che l'ho fatto e so bene indicarvi quali sono, è stato un fail perché comunque non ero completamente me stesso, non ero a mio agio con quello che stavo facendo, per cui questa cosa è fondamentale, vi dico perché, perché lì c'è stata la divisione, perché lì c'è stata gente come Neffa che ha pubblicamente dichiarato io questa cosa del rap non mi interessa più, cioè non si vende, non si campa con il rap, non mi interessa, io faccio musica di un altro tipo che motivata così in quel periodo storico era un po' triste, era un po' triste per gente come noi perché chiaramente erano motivati non dalla parte economica, non c'era ancora questo spalleggiamento e questo lavoro costante delle incessante delle measure, delle realtà che poi hanno inglobato tutto il discorso del rap, appunto c'erano delle realtà indipendenti, poi chiaramente un'etichetta come Vibra Records di Verona con tutti i suoi limiti è diventata l'etichetta di riferimento perché non c'era niente, c'erano loro che hanno continuato a investire e chiaramente tutti i gruppi che iniziavano ad avere un po' di attenzione da Zampa che hai citato tu Jack Smoker ma subito dopo Fabri Fibra, Nesli, Club Dogo, tutti i gruppi che cominciavano a uscire e avevano un minimo di non sapevano dove andare avevano tutti da Vibra Records se voi guardate tutti i dischi di questi personaggi i primi dischi importanti sono firmati Vibra Records ribadisco per l'anesima volta che io non ho niente a che fare con Vibra Records ho solo firmato per Vibra Records per fare determinati dischi poi alcuni della struttura tipo DJZ che ancora è mio socio sono erano miei amici ma ecco questa cosa ci tengo sempre a chiarirla perché poi pensano che l'ho fondata a Vibra Records ma non è vero ti interrompo perché l'altro punto che hai toccato è una cosa che mi ha sempre sbalordito cioè che poi quello che hai detto mi sono sempre fatto un paio cazzimiani nel senso che tu facevi veramente tutto l'ho ripetuto prima quando qualche ragazzo giovane mi chiede a me dei consigli io la prima cosa che gli dico è trova delle persone con cui è un bel feeling e se tu fai il rap trova qualcuno che fa le produzioni beccati divertiti fallo in quel modo trova qualcuno che fa quell'altro pezzo che non è necessariamente il rap con te per creare una crew tu riuscivi a fare tutto da solo molto molto da solo anche se ho iniziato così comunque ho iniziato in cameretta ho iniziato devo fare tutto io non avevo nessuno nell'87-88 che mi desse una base o facesse uno scratch o facesse una registrazione della voce cioè non è che andavo in studio a fare le robe dovevo fare tutto io e lì ho imparato poi fortunatamente mi sono anche appassionato dalla parte tecnica che è secondo me una delle cose importanti che mi hanno permesso anche di diciamo avere una credibilità fuori dal mio dal mio discorso artistico nel senso che lì è nata poi tutta una passione di tecnico del suono che coltivo ovviamente tutt'oggi c'è un lavoro che faccio regolarmente in studio adesso un po' più slegato dal rap chiaramente per ovvi motivi ma c'è sempre stata questa passione che è nata poi grazie alle persone che mi hanno istruito ai tempi perché la roba che dice Fabio è vera se tu non hai dei riferimenti non avrai mai qualcuno che è una vera fonte di ispirazione e credo che questa sia la differenza vera tra avere una persona che ti in strada con knowledge a fare qualcosa o vedere il tutorial su su youtube e il tutorial ti risolve un problema ma non ti darà mai la chiave o non ti dimostrerà mai qual è veramente la passione sul campo per fare una roba io come mentori ad esempio ho avuto Vets che forse qualcuno di voi conosce che si occupa anche di alcune faccende diciamo burocratiche della scuola della scuola che organizza questo evento che è il CFM esatto e che era il fonico degli OTR che è stato quello che mi ha insegnato proprio le prime cose basilari nel 95 96 quando mixavamo assieme ai primi dischi lui mi spiegava proprio io dicevo Vets ma qua com'è che fai a far suonare il compressore e poi un altro mio caro amico DJT di Verona che è stato poi invece una persona che mi ha seguito in tutti gli anni mi ha aiutato anche a realizzare gli studi di registrazione a livello di insonorizzazione di resa del suono eccetera di insonorizzazione